... Insomma da giovedì in poi che tempo farà Duellino? Meteo Pepa! Il tempo da giovedì in poi... A proposito qua notiamo che è tornata l'assistente a grande richiesta, ha superato il test dell'esame perché ha fatto la cattivella. Quindi da giovedì il tempo sarà discreto, solo però ci si prevede una perturbazione che è passata verso Roma e è venuta qua, si sta spostando e sta portando i temporali qua. Però nella giornata di domani mattina il tempo migliorerà su tutta l'Italia. Ecco però Meteo Pepa ci puoi illustrare in zona Irpina cosa succede? In zona Irpina succederà la catastrofe qua. Ecco iniziamo bene. Iniziamo bene sì. La catastrofe sopra la prefettura. Perfetto, il prefetto sarà sicuramente contento di queste notizie. La catastrofe sopra la regione. A Napoli addirittura. Eh sì. Sul comune quella non manca mai. Non manca mai. Il ciclone Paolone sul comune di Irpina. Sì sì. E questo è tutto a posto. Per quanto riguarda invece le prossime settimane, visto che i nostri amici te spettatori ormai seguono sempre con piacere e soddisfazione i suoi annunci. Quali catastrofi accadranno? Accadrò sempre sopra la regione qua. Sempre questi palazzi. Sempre questi palazzi. Sui denti. Comunque sarà buono, discreto, tempo discreto. Puoi far vedere l'Irpinia con questa bacchetta? Questo è l'Irpinia e l'Irpinia. Buono. Buono o? Buono. Buono o? Buono o? Puoi? Buono o? Buono, buono. Grazie a tutti